Piazza Domo a Firenze, siamo all'interno della sede della prestigiosa sede della giunta regionale toscana, torna anche quest'anno il By Food 2023, esattamente giovedì 26 ottobre e venerdì 27, torna il By Food Toscano, ovvero l'evento che promuove la conoscenza a livello internazionale dei prodotti agroalimentari di eccellenza della nostra regione. L'evento di quest'anno è stato presentato oggi appunto in regione, andiamo a sentire i protagonisti della presentazione. Vengono presentati in questi due giorni oltre 300 prodotti DOP, IGP e PAT, sono prodotti apprezzatissimi nei mercati mondiali, tant'è che il primo semestre del corrente anno ha fatto registrare una cifra importante, 1 miliardo e 750 milioni nel primo semestre, di export di prodotti agroalimentari dalla Toscana verso il mondo. Quindi una dimensione internazionale che garantiscono questo tipo di prodotto, ma anche un attrattore turistico importantissimo. Quindi all'insegna di questi prodotti ambasciatori di Toscana nel mondo, noi organizziamo questo evento che sarà poi seguito da dei tour per la Toscana, in cui i buyers potranno visitare le aziende, visitare dei territori segnatamente nella Toscana del nord-ovest, nelle zone di Pisa, di Massa Carrara e di Lucca e anche tutta una serie di aziende fiorentine. Dopo il meeting abbiamo fatto dei pranzi dove possono continuare il lavoro, il lavoro che nelle mezz'ora alla mattina hanno fatto l'incontro fra buyer e produttori può proseguire in un'area conviviale. Ecco, questi sono tutti aspetti che noi condividiamo insieme alla Regione di poter mettere a suo agio il più possibile i compratori che abbiano dei ricordi positivi, delle esperienze positive che poi si tramandano in contratti e quello è il valore per le nostre aziende. C'è un grandissimo interesse, tornano per la prima volta anche i mercati asiatici che negli ultimi anni non erano stati presenti, oltre ai mercati tradizionali della Nord America e dell'Europa e soprattutto il Far East è un mercato particolarmente interessato. Questi 50 buyers sono stati selezionati precedentemente grazie alla collaborazione con Promo Firenze e con la Camera di Commercio che ormai dura da molti anni e lo rifacciamo perché abbiamo anche valutato l'efficacia di questa modalità di realizzazione del buy food.